Giorno 444. Molti aggiornamenti di oggi vengono dal nord-est. La giornata di ieri è iniziata con varie esplosioni a Luansk, una città distante 100 km dal fronte. È stato in realtà il secondo giorno consecutivo di attacchi di precisione su bersagli dentro la città, cosa che ha aumentato il panico e le ipotesi sull'uso degli Storm Shadow, in quanto fino ad adesso era impossibile per gli ucchiani raggiungere tali distanze. I primi due bersagli sono state fabbriche di macchinari che vengono utilizzate per riparare carri, corazzati ed altri equipaggiamenti. Fonti russe riportano che gli ucchiani hanno usato almeno due missili e colpito con successo le fabbriche Polipak e Milan. Il terzo bersaglio è stato l'edificio del Ministero degli Affari Interni. Questi edifici vengono solitamente utilizzati come quartier generale dei comandanti di brigata e divisione, rendendoli quindi bersagli d'alto profilo. Il quarto e quinto bersaglio sono stati edifici che processano cibo e prodotti chimici. Avendo enormi depositi vengono utilizzati per accumulare munizioni ed equipaggiamento. In un primo momento le fonti russe avevano riportato l'uso dei missili RIM-2. Tuttavia, ieri, come sono state rese disponibili più informazioni, questa teoria è stata confutata. I russi hanno trovato frammenti di un missile Storm Shadow e di un ADM-160B. In più, i russi hanno notato che gli ucchiani avevano fatto alzare in volo un Su-24 e un MiG-29. Per essere sicuri che il missile Storm Shadow andasse a segno, gli ucchiani hanno lanciato l'ADM-160 come esca. Mentre la contraerea era impegnata con il missile di distrazione, lo Storm Shadow ha trovato via libera. Ieri i russi hanno usato vari droni per un altro attacco. Lo stato maggior ucraino ha riportato che sono stati lanciati 21 droni, di cui 17 intercettati dalla contraerea, mentre 4 sono riusciti a colpire bersagli in varie parti dell'Ucraina. L'esplosione più grande è avvenuta a Kuelvinsky. E a giudicare dalle immagini è chiaro che i russi siano riusciti a distruggere un deposito di munizioni in una base ucraina situata a 1 km dalla città. Fonti russe specificano che questa base aveva un enorme deposito di munizioni per aerei. I russi hanno avuto successo anche a Ternopil. Il bersaglio sono stati impianti di riparazione e macchinari ferroviari. Ma le notizie più importanti vengono dal fronte nord. Ieri i russi hanno perso 4 velivoli in pochi minuti. Ufficiali russi riportano che l'incidente è accaduto a causa di malfunzionamenti nei motori, ma fonti non ufficiali hanno portato l'attenzione verso le fiamme intorno al motore, facendo notare che sembrano quelle di un'esplosione provocata da un missile. Cosa provata dalle foto dei resti dei velivoli che mostrano danni solitamente lasciati da missili. Ci sono quattro versioni sull'incidente. La prima, essendo l'incidente accaduto a più di 50 km dalle posizioni ukraine, alcune fonti ipotizzano sia stata a causa di un malfunzionamento delle difese aeree che hanno distrutto l'intera unità, cosa però che sembra improbabile. La seconda ipotesi è che sia stata opera dell'intelligence ukraine, che avendo scoperto il piano russo di compiere una missione vicino al confine nord, abbia deciso di tendere un'imboscata. Azioni di sabotaggio nella regione di Bryansk non sono inusuali, il che non rende improbabile che i sabotatori possano aver superato il confine e preso posizione. Tuttavia, la traiettoria del missile è orizzontale, cosa che non lo rende compatibile con un missile lanciato da un sistema portatile. Terzo, si ipotizza che gli ukraini abbiano deciso di spostare un sistema Patriot nella regione. Tuttavia, anche se questo spiegherebbe la traiettoria orizzontale è estremamente improbabile che gli ukraini rischino un sistema del genere per un baldo tentativo. Infine, arriviamo alla più credibile versione, ovvero quella secondo la quale gli ukraini abbiano usato la propria aviazione. Gli ukraini potrebbero aver usato dei caccia decollati dall'aeroporto di Poltava equipaggiati con gli AIM-120, missili aria aria a medio raggio dotati di un raggio di 70 km. Questo avrebbe permesso ai ukraini di non dover neppure avvicinarsi al confine. Questa versione si collega piuttosto bene con la caccia all'uomo avviata da vari blogger che stanno cercando che abbia permesso ai velivoli di volare a un'altitudine definita pericolosa. Gli ukraini monitorano in continuazione gli aeroporti russi e non risulterebbe difficile attuare un piano del genere, essendo a conoscenza degli schemi di volo generali e delle regole in materia di altitudine. Se siete contro l'invasione dell'Ukraine e volete supportare il nostro lavoro, potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti simboli ukraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ukraine. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.